Il centro di Cagliari soffre di degrado diffuso da anni e si attendono interventi significativi. Ce ne parla nel servizio Maurizio Ciotola. Cagliari subisce un degrado che sembra avere la tipologia di un cancro da cui è divorata dalle periferie fino al suo centro storico. I medici, che in questo caso dovrebbero essere i suoi amministratori, sembrano essere indifferenti o marginalmente attenti. L'amministrazione uscente, che ha attivato alcuni cantieri di cui il più appariscente per impatto che interessa la via principale della città antica, via Roma, è un flop disastroso. Un intervento apparentemente fermo e che dal mega annuncio floreale iniziale sembra essere stato ricondotto ciò che era prima del suo avvio, con la rimozione e il riposizionamento dei basoni in granito, avvenuti in modo confusionario e con particolarità orribili sul piano delle finiture. Ma Castello, il quartiere che si erge sull'intera città, sede originaria del suo governo politico e religioso, quartiere vivissimo fino ai primi anni 60 del secolo passato, ha avuto un primo rifacimento strutturale alla fine degli anni 80 con la giunta guidata dal sindaco Dal Cortivo e poi da quella di Lovu e quindi a seguire un decadimento totale. Cantieri e messi in sicurezza che durano da vent'anni. Le macerie cadono da palazzi di proprietà comunale, dalle pareti antiche del Castello, con un piazzale impraticabile di fronte al palazzo Vicereggio e Arcivescovile. Insomma, un quartiere storico che in qualsiasi altra città della penisola, da Roma in su, costituirebbe il nucleo pulsante di una città turistica, culturale, surricavente e orgogliosa del proprio passato. Diversamente da quanto accade a Cagliari, in cui soprintendenza, amministrazione comunale, privati cittadini, imprenditori edili, hanno determinato questo stato di degrado e decadenza che forse abita il non fare cittadino, con la speranza di essere smentiti da questa amministrazione entrante.